Flavio Casetti, responsabile della promozione del fondo pensione Cooper Lavoro, qui a Genova per il Welcome Day. Quando si parla di pensioni il tema è assolutamente in prima linea. Quando si parla di pensione automaticamente si associano gli anziani, invece è un problema che riguarda i giovani. Noi siamo voluti venire qua oggi perché qui ci sono le nuove cooperative, in gran parte si tratta di giovani, di giovani cooperatori. Perché Cooper Lavoro è lo strumento che il Movimento Cooperativo ha creato per fare la pensione integrativa ai dipendenti e ai soci delle cooperative. Quindi presentare questo fondo a cooperative che nascono e iniziare bene il lavoro di cooperatori. Giovani capiscono questa opportunità? Sa, la pensione, siamo stati giovani tutti, la pensione la vediamo sempre molto lontana. Devo dire che ultimamente è subentrato anche un certo pessimismo, dice ma tanto chissà se la prenderemo. Proprio per questo il fondo pensione è indispensabile perché associa al primo pilastro che è la previdenza obbligatoria, che come sappiamo è la ripartizione, non ci sono i soldi lì nel cassetto, sono uno strumento a capitalizzazione, dove uno versa e ritrova i propri soldi nel fondo pensione. Quindi è uno strumento che fa correre meno rischi dal punto di vista pensionistico. Equilibra un po' il sistema di ripartizione che si basa sulla solidarietà fra generazioni, a un sistema di capitalizzazione che è fortemente corrispettivo. Verso tanto prendo tanto.